Che io faccia con la mano, così! Don Vito, noi la ringraziamo per questa proposta, siamo a sua disposizione. Siamo solo in tre, ma potendo manovrare, in tv facciamo quello che ci pare. E caro mio Don Vito, il suo accoggio è ben credito. Ma in tv sapevo scienza che c'è troppa concorrenza, per esempio Alberto Lupo. E lo butto in un dirupo. Sì, vabbè, ma la manovrio. La rapisco e me ne approbrio. Ma c'è sempre mai buongiorno. E lo schiaffo dentro il forno e resta là. Se obbedite a me, la tv diventa cosa di noi tre. Pippo, senti a me, questo ha in testa troppi grilli, rimaniamo a canzonisti ma tranquilli. Io vorrei cantare. Si potrebbe gareggiare. Ci fa vincere la gara. È questione di lupara, vi prometto senza fine, tanti voti e cartoline, votaranno tutti Pippo, si capisce con l'enghippo. Tanti voti per la goggi, si capisce con gli appoggi. Se non vedo, ma i cantanti stanno buoni tutti quanti. Picciottetti, non è orgoglio, ma vi giuro che se voglio, stanno vinci, Aurelo Fierro, se lo vuole Cascio Ferro, si farà se obbedite a me. La tv diventa cosa di noi tre. La tv diventa cosa di noi tre.